Un campo di spiritualità per giovani al ritmo della vita è la proposta per la prossima estate del centro vocazionale Ora Decima in collaborazione con la pastorale giovanile per chi cerca un momento bello da vivere a pieno ritmo. Metti insieme la bellezza dello stare insieme, appunto di un campo, con anche l'incontro con la parola di Dio. Quindi sono degli esercizi spirituali però dentro al clima di fraternità di un campo. Molto bello è anche la cornice che ci aiuta in tutto questo, che è appunto la cornice della montagna, della natura. Siamo ad Oronzo di Cadore, Federa Vecchia, quindi è un luogo molto bello. E allora ecco gli ingredienti principali di questa bella esperienza. L'andare a ritmo, ecco tra l'altro è anche il titolo di quest'anno, il ritmo della vita. La nostra vita può appunto nell'incontro con la parola di Dio, nella condivisione della fede, nell'esperienza di fraternità, avere proprio anche un ritmo bello, un ritmo sostenuto che dà senso, che dà pienezza alla nostra vita. Iscrizione aperte fino al 10 luglio o fino ad esaurimento posti. Se desideri vivere un'esperienza di fraternità, un'esperienza di incontro con la parola, ti aspettiamo a questo appuntamento, anche se è la prima volta. È un'esperienza davvero coinvolgente.